ciao amici amici bentornati al mio canale un bacio grande video velocissimo perché stavo per registrare un altro video e però mi sono un pochino truccata e quindi l'effetto non mi dispiace non avevo voglia di truccarmi ma l'effetto non mi dispiace e quindi al volo vi faccio vedere in un video a sé stante che cosa ho utilizzato per fare questo make up molto veloce molto fresco utile decisamente utile con soltanto pochissimi prodotti multitasking allora vi faccio vedere che cosa utilizzato nella base viso non ho assolutamente nulla sono semplicemente riposata sto dormendo moltissimo tantissime ore come non facevo da almeno 12 anni cioè da quando è nato mio figlio da quando sono rimasta incinta del mio primo figlio non dormivo così tanto per una forzata ovviamente in attività dovuta alla convalescenza post operatoria devo dire che questa secondo me è la migliore in assoluto cura di bellezza per chiunque per una donna insomma ma per chiunque il riposo riposo nel senso inteso come possibilità di dormire tante tante ore perché poi comunque per essere in forma bisogna anche fare un pochino di attività fisica cosa che io comunque al momento non posso fare ma sto dormendo tantissimo quindi non ci sono maschere di bellezza che tengono creme di bellezza che tenga insomma dormire quelle ore 8 almeno 8 ore al giorno e riposare poter riposare durante la giornata è il top allora vi faccio vedere comunque che cosa utilizzato con pochissimi prodotti viso per questo look sui colori pescati ho utilizzato una palette multitasking che è questa che nasce come palette di ombretti ma che ho utilizzato anche come blush è la huda beauty mauve obsession che è molto utile da portare in in viaggio fuori perché vedete è compatta e ci sono ben 9 colori di ombretti 9 colori tutti molto intensi sulle tonalità calde del mauve ma anche del nocciola quindi io per questo make up ho utilizzato sulle palpebre questo colore al centro della palpebra non so se lo vedete è un pochino di colore più intenso ramato semplicemente nell'angolo esterno con il dito senza utilizzare nessun tipo di pennello quindi questo questo e questo ma andando molto molto piano non calcando è semplicemente picciando e sfumando sono colori molto questi qui che non necessitano di grande pressione non necessitano di grande maestria perché sono molto molto scriventi è bellissima questa palette ecco guardate qui c'è un pochino la luce però insomma si vede no si vede non ho appena sfregato quindi grande qualità per questa palette di huda beauty quindi questo sugli occhi sul sulle guance invece ho utilizzato questo colore qui che è un bel mattone scuro ma mettendolo con un pennello così di questo tipo che ha delle setole molto morbide che tende l'ho preso di proposito perché questo pennello non mi piace in modo particolare in quanto ha un rilascio molto leggero di prodotto ma io l'ho preso appositamente per questo motivo perché il colore è molto carico quindi sulle guance ho questo però avrei potuto utilizzare volendo non ce n'è bisogno perché sono oscura comunque anche questo colore per fare un po di contouring o per utilizzarlo come come terra insomma e quindi questo per il viso per gli occhi ho messo un mascara che per me è una garanzia ed è questo di kiko ed è la measurable length fibers che sia allungante che volumizzante ha uno scovolino bellissimo che mi piace molto perché è sia cicciotto sia a una estremità alla fine che permette di modellare anche bene le ciglia più sottili all'attaccatura non l'ho messo in modo carico fatto un look comunque da giorno ma questo passato più volte vi permette comunque di avere delle ciglia veramente wow ed è sia allungante che volumizzante e quando lo trovo in offerta a 3,95 euro come spesso accade per i prodotti insomma i mascara kiko io tendo a prenderlo perché mi piace molto e sulle labbra un must have che è questo rossetto pescato di Avon che è peach flatters della linea Avon true matte che vi faccio vedere qua ve lo faccio vedere qua bello 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 bellissimo questo mi piace tanto 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 ecco qua lo vedete abbastanza bene sulle mie labbra rende perfettamente il colore che è non non è molto differente da quello che vedete sulle mie labbra anche se spesso le mie labbra tendono a cambiare colore ecco vedete sulle mie labbra è molto fedele e questo è un colore che mi piace molto per l'estate si adatta a tantissimi look si adatta perfettamente a tutti i toni del rosso del pescato ma anche perché no anche un rosa caldo con un abito rosa insomma caldo non sta proprio male un rosa antico ecco sta benissimo quindi questo era il trucco di oggi ah sull'arcata sopraccigliare scusate no ho dimenticato sull'arcata sopraccigliare ho utilizzato il vaniglia cioè il colore vaniglia che è opaco sempre della palette di huda beauty questo era tutto velocissimo un bacio alla prossima ciao ciao